La politica si è svolta al circolo Arci di Ponte a Greve a Firenze, una delle assemblee preparatorie del Partito Comunista Italiano in vista dell'appuntamento di sabato 25 marzo a Roma dal titolo contro Unione Europea e Nato per il Socialismo. A concludere i lavori il segretario nazionale del partito Marco Rizzo che ha ribadito l'impegno centrale dei comunisti di prospettare un'altra società basata sulla giustizia sociale, non sul mercato e sullo sfruttamento. Ma sentiamo a proposito una dichiarazione proprio di Marco Rizzo. Se da una parte c'è l'antipolitica dei 5 Stelle e dall'altra parte c'è la pessima politica del PD, sarebbe come sparare sulla croce rossa, io non dico null'altro. Credo che bisogna trovare un'altra politica, ma l'altra politica è il protagonismo dei lavoratori, dei giovani, delle persone che pensano di costruire un'altra società. Questa società mi pare evidente non va davanti.